Il museo di Visso è il primo di una rete di musei civici diocesani distribuito sul territorio dell'Alto Maceratese. La rete di nuova costituzione a sua volta appartiene al progetto Rete Museo Diffuso delle Marche ed è stata promossa dai comuni di Camerino, Castella Raimondo e Visso, dall'Arci Diocesi di Camerino San Severino e dall'Università di Camerino Unicam. Ha usufruito dai finanziamenti UE della Regione Marche DOCUP 2000-2006 Obiettivo 2. La collezione, ricca di opere di arte sacra, completa ed arricchisce il quadro complesso ed eterogeneo dell'arte marchigiana dal XII al XVIII secolo. In entrata si trovano tre madonne con bambino in legno policromo di autori anonimi del XII e XIII secolo. Il gruppo si presenta con una prima madonna seduta su di un trono compostergale, il bambino sulle ginocchia e la testa coronata. I due personaggi, il ligneo policromo, si presentano rigidi e ci rimandano agli stilemi di scuola romanica umbra, con un percettibile legame alla tradizione bizantina. La primitiva rudezza dell'intaglio non diminuisce la pregevolezza dell'opera. A fianco una tavola intelata del XII secolo di anonimo bizantino. Si nota la madonna seduta in trono con il bambino sulle ginocchia in posizione frontale ieratica, che evidenzia l'influenza bizantina del 1200, quando dai territori del ducato di Spoleto si espanse nelle Marche, dove presero di mora alcuni artisti orientali. A sinistra un'altra scultura in legno policromo, di intaglio rude e primitivo, eseguita da un artigiano dell'Alto Nera del XIII secolo. È una madonna con bambino, cui l'artista si è sforzato di imprimere, nei due volti, un'espressività devozionale con indubbio successo. Sulla destra una tempera su tavola, rappresentante la madonna con angeli, di un pittore bizantino del XII secolo. Un capolavoro di scultura a linea policroma è il crocifisso di un anonimo scultore spoletino. Si possono notare i particolari della sofferenza, gli spasmi dell'agonia, il capo pesantemente reclinato e la profonda ferita che incide il costato, arrossato da stille di sangue rappreso. Il politico di scuola umbro-senese, attribuito a Giovanni di Corraduccio, risale alla fine del XIV secolo. È costituito da due laterali con i santi Ludovico da Tolosa, San Francesco d'Assisi, San Giovanni Battista e Sant'Antonio da Padova. Si riconosce l'influenza del pittore senese Luca di Tommè, che soggiornò nel 1370 in Umbria e nelle Marche, nel particolare delle lunghe dita dei piedi che calpestano il suolo erboso. Nella cappella laterale, dedicata a Paolo d'Avisso, risalta l'affresco della pietà. L'opera, nell'insieme, si rivela sorprendente. In posizione frontale si notano l'Eterno Adirato e gli angeli con i visi severi e le grandi ali dai colori vivaci. Al centro, la pietà, che esprime attraverso i visi profondamente addolorati, dolore rassegnato. Risaltano le lacrime della Madonna, quasi a bagnare il corpo livido e inanimato del figlio morto. L'affresco della crocifissione di Paolo d'Avisso si compone del Cristo crocifisso, con ai lati Sant'Andrea Apostolo e San Michele Arcangelo. Il dipinto fu eseguito nel 1474. Uno stolone di canapa in agopittura con sacre evangeliche del XV secolo. Questa singolare tessitura fu a Lucca e a Venezia e l'appresero dall'Oriente Siriano a seguito delle crociate. La scultura, in legno policromo, rappresenta la Madonna di Macereto con bambino del XV secolo. Il gruppo ligneo appare in mistico movimento ed armonica grazia. Il capo è maternamente reclinato verso il bambino, aggrappato con una mano al suo manto, tutto proteso verso di lei. La statua della pietà è opera di un plasticatore tedesco, appartiene al XV secolo. È una Madonna che sorregge il Cristo morto sulle sue ginocchia. La croce astile gotica, detta anche croce di San Marco, è in argento dorato con smalti, da datarsi tra il 1413 ed il 1435. Presente ai bracci angolosi, che terminano i trilobi tramezzati da angoli retti. Nelle due facce sono sculture simboleggianti la chiesa docente. Domina al centro, seduto in trono, il Cristo maestro ed evangelizzatore, che regge con la mano sinistra un volume aperto, appoggiato sulle ginocchia. Sui quattro lobby della croce, appoggiati su mensole, sono i simboli degli evangelisti. In alto l'aquila di San Giovanni, a destra il leone di San Marco, a sinistra il bue mansueto di San Luca, in basso l'angelo ascetico di San Matteo. Intorno al Cristo, su medaglioni applicati, sono incisi le immagini degli evangelisti. Nell'altra faccia, dove è rappresentata la redenzione del genere umano dal polibero superiore, scende in volo un angelo diretto ad incoronare il Cristo crocifisso, raffigurato al centro della croce. Nell'obo sinistro è la Vergine, in atteggiamento dolente. In quello di destra, San Giovanni evangelista, in mesto atteggiamento. In quello inferiore, un pontefice inginocchiato su una mensola con le mani giunte e lo sguardo rivolto in alto al crocifisso, che simboleggia la chiesa. La croce, circondata da sferette d'argento floreali, è rivestita con lamine d'argento dorato. La base, in marmo, con delfini e grifi preziosissimi, è finemente scolpita e di arte fiorentina del Quattrocento. Una delle migliori opere di Paolo d'Avisso è il politico di Castel Sant'Angelo sul Nera, che fu eseguito intorno all'anno 1478. La tavola è costituita da tre pannelli, suddiviso in quattro eleganti colonnine tortili, con capitelli corinzi, terminati ad archi cilobati, finemente indorati alla maniera del gotico internazionale. Nel pannello centrale siede la Madonna, che regge con le mani il bambino coperto da un velo. In alto, intorno all'arco, sono i volti di quattro angeli oranti. I due pannelli laterali sono divisi da colonnine più sottili, con archi polilobati, che creano spazio per otto scomparti. In fondo, nella predella divisa in nove scomparti, sono otto busti. Al centro, il Cristo. Ai lati, a sinistra, Santa Caterina da Siena, San Giovanni Bonaventura, San Rocco e la Dolorata. A destra, San Giovanni Evangelista, Santa Chiara, San Paolo e Santa Caterina Martire. Nell'opera si nota profusione d'oro, nei fondi lobinati nel manto della Vergine, eleganza e semplicità di ricami arabescati. Sempre nell'atrio è esposta un'annunciazione di Giovan Battista da Norcia, tempera su tela, dell'inizio del XVI secolo. La tela ci mostra un ambiente originale ed attraente. La Vergine ha un manto turchino, inginocchiata presso il badalone. L'angelo sfiora con leggerezza il pavimento, indicando l'alto con la mano destra e porgendo un giglio con la mano sinistra. L'armonioso cromatismo, i bei volti dei lineamenti dolci, sono ispirati al Botticelli, nella Vergine, e a Filippo Lippi, nell'Angelo Annunciante. Di Gaspare Angelucci è la Madonna con bambino, San Sebastiano e Sant'Andrea dipinto su tavola, datato 1538. La Madonna, incoronata da due vivaci angioletti, siede in un trono a doppio gradino. In braccio il vispo bambino che si protrae verso Sant'Andrea Apostolo con la sua grande croce e dall'altro lato il corpo vigoroso seminudo di San Sebastiano con le mani legate.